Come sta? Buonasera. Buonasera, autorizzazione del professor Zangrillo, vi posso dire che la ripresa è costante, anche si è lenta e quindi siamo molto fiduciosi e grati soprattutto al team di medici e di infermieri che lo stanno accudendo in modo eccezionale, come d'altronde si merita. Grazie signori, buon lavoro. Come sta di spirito il Presidente? È forte, poi ha una volontà ferrea incredibile, incredibile. Grazie. Grazie.